Andrea Dal Corso esce allo scoperto con la nuova fiamma? Ecco le foto Andrea Dal Corso è diventato uno dei protagonisti del gossip delle ultime settimane A lui, dopo il no a Teresa Langella, vengono attribuite diverse relazioni L'ultimo indizio, in ordine cronologico, sarebbe stato fornito da lui stesso sui social L'ex corteggiatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha postato l'immagine con una ragazza Il bel Dal Corso ha ringraziato la donna per essergli stato vicino e soprattutto perché con lei è stato sempre se stesso Una bella dedica che nelle fantasie dei suoi fan ha fatto insinuare il dubbio che fosse lei la donna che Andrea sta frequentando in questo periodo Andrea ha uomini e donne Andrea Dal Corso è stato uno dei protagonisti di questa stagione di uomini e donne In particolare la sua presenza è stata richiesta da Mara Fasone Quando la bella tronista siciliana è andata via lui ha deciso di rimanere a corteggiare Teresa Langella Un viaggio durato alcuni mesi, durante i quali cercato di convincere Teresa del suo interesse La tronista partenopea, però, ha ribadito a più riprese la mancanza di fiducia Nonostante alti e bassi Andrea ha continuato ad andare avanti per la sua strada E' riuscito a farsi preferire ad Antonio arrivando ad essere la scelta Al momento clou del programma, però, ha fatto un passo indietro, non presentandosi alla festa e dicendo di fatto no alla tronista Quest'ultima è rimasta molto delusa dal suo comportamento Le settimane successiva alle scelta sono state a dir poco caotiche sia per Teresa che per Andrea Quest'ultimo ha cercato di spiegare sia tramite i social che negli spazi dedicati nel programma di Canale 5 le sue motivazioni Dal canto suo la bella napoletana, ferita nell'intimo, ha voluto tenere le distanza e i suoi fan hanno inviato messaggi poco carini ad Andrea Dal Corso Tanto che la stessa Teresa ha preso le distanze da tali comportamenti Dal Corso con una nuova ragazza Andrea dopo il polverone da quale è stato travolto, sta cercando di andare avanti per la sua strada Pare che nella sua vita sia comparsa una nuova donna Come detto in precedenza a far accendere la speranza nei suoi fan è stato lui stesso con una foto sibillina postata sui social Nell'immagine si vede Andrea Dal Corso e la ragazza insieme è sorridente, con l'ex corteggiatore che la ringrazia per essergli stato vicino e per averlo sostenuto In realtà potrebbe trattarsi anche solo di un'amica con la quale ha un rapporto speciale Staremo a vedere se nelle prossime settimane arriveranno, in tal senso, con firme o smentite dai diretti interessati .